Ciao, resta! Ma qui c'è lei? No, sta volando una bambinetta di sei anni che fa la giunta con il suo cagnolino, è fatta roba. Guarda e muore! Chiama, dai! Bene, grazie, adesso lo comunicherò così carichiamo la squadra. Sì! No, sono in mezzo alla gente, non posso guidare, sono andata in corso. Sì, c'è una bambinetta piccola con un cagnolino piccolo. Bellissima la bambinetta. Ho sei anni. Cambia, cambia! Ma ho sei anni, eh? No, 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 no. Ne ha quasi dieci. Ah, non è vero, è vero. Lo devi vedere? Cambia, vai! Sì, ma che è? No, non sono riorganizzati. Sì, ma che è vero, 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 è vero. Grazie a tutti.